Antonio Borriello, professore, studioso, attore e regista, siamo a Via Antonio De Curtis. Una targa, ahimè, ancora illegibile? Purtroppo sì, è una condizione che va avanti da doppo tempo ed è una tristezza incredibile. Qua si dice che di notte Totò vaga lungo il viale, vaga lungo il viale con il suo frac e la bompetta nera e si lamenta e protesta. Io, attore blasonato, conosciuto nel mondo, ridotto ad una schifezza, anzi, dico testualmente ad una mappina. La sua targa è infatti ridotta ad una mappina e non è giusto. Credo che l'amministrazione sia ben consapevole di questa mancata attenzione, di questo mancato decoro, perché fa parte ovviamente anche del decoro urbano. Il viale è interamente disastrato, la pavimentazione è rovinata, perfino le strisce pedonali davanti all'ingresso dell'istituto scolastico, lo storico istituto scolastico Giampietro Romano è privo di strisce pedonali. Era una volta un viale alberato, non c'è più un albero, alberi tagliati, deiezioni canine dappertutto. Una strada praticamente abbandonata. Abbandonata, perfino le caditoie, i tombini sono clusi, otturati, ma ripeto la questione è veramente un'offesa alla memoria di un grande artista, ammirato da Arbasino, da Fellini, da Monicelli, da tutto il mondo. Una situazione che lei più volte ha denunciato. Certamente, assolutamente sì, ed è uscito da tutta la produzione degli organi di stampa, dai giornali locali a Lanza, Mattino, Repubblica, dappertutto insomma. La questione è veramente di una tristezza indicibile. E dall'amministrazione non vi è arrivata mai nessuna risposta? Assolutamente no. Ho fatto presente al consigliere, ad un consigliere, ad un assessore, direttamente il sindaco in un pubblico appuntamento, in una cerimonia. E insomma ne hanno contezza di questa questione. È una questione anche di sicurezza, oltre di decoro urbano, è anche di sicurezza. Il recapito postale, a volte hanno dei problemi, perché non c'è scritto più nulla? Un problema di decoro, ma anche un problema di sicurezza, lo diceva lei prima, l'attraversamento pedonale che conduce alla scuola è veramente in condizioni pessi. Ci sono due attraversamenti pedonali, uno all'inizio, dove siamo noi adesso, che non c'è più, e uno proprio all'ingresso della scuola, che manca. E qua c'è un quartiere molto popoloso, gli abitanti sono tantissimi, la scuola ha un numero di iscritti, di studenti, che è veramente molto alto. È un quartiere, è una zona importante, deve avere attenzione. Manca questo impegno da parte dell'amministrazione, che costa poco rimettere una targa. Tutti i cittadini, mi compreso, siamo disponibili, se ci autorizzano, paghiamo noi, la mettiamo a nostre spese. Quindi qual è il suo ulteriore appello ai nostri microfoni? Di mettere immediatamente il ripristino della targa Antonio De Curtis in arte Totò, principe della risata, con la data e morte del grande attore, altrimenti autorizzateci, ma mettiamo a spese nostre. Grazie. 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 Grazie.